È suonata la prima campanella per 15 classi di 13 scuole di tutta Italia che da quest'anno hanno attivato la sezione Rondine, un triennio scolastico sperimentale che ogni istituto scolastico superiore può scegliere di attivare insieme a Rondine che oggi mette a disposizione della scuola italiana il suo metodo sulla trasformazione creativa dei conflitti. Il metodo Rondine esce dal borgo e entra nella scuola ordinaria. Accanto a questo ci sono già altre scuole, altre città d'Italia che si stanno formando per aprire altre scuole. E qui al borgo dove è partito il nuovo quarto anno di liceo, cioè i ragazzi da ogni regione italiana che frequentano il quarto anno qui a Rondine e accanto ai fratelli maggiori, cioè le coppie dei nemici che vengono dai maledetti luoghi di guerra e che conosciamo tutti. Quindi è una grande speranza, è una grande festa oggi perché il mondo ha bisogno di non essere travolto dai conflitti, ma ha bisogno di imparare a gestire i conflitti, a trasformarli in forza civile e in coesione sociale. 320 gli studenti virtualmente collegati con la Cittadella della Pace per l'evento di inaugurazione della sperimentazione. Il primo passo è stato proprio la formazione dei docenti del metodo Rondine che oggi vede più di 300 insegnanti certificati. Devo dire che per noi la proposta di aprire una sezione Rondine è stata davvero un regalo. È arrivata come un coronamento di un percorso che la nostra scuola sta già facendo, nel cercare di mettere al centro i ragazzi non solo come studenti ma come persone in crescita e cercando di mettere a fuoco sempre il valore della diversità, il dialogo, il relazionarsi in modo positivo con gli altri. È stato un incontro con una realtà di grande relazione umana, di grande assonanza e empatia e l'opportunità di mettere meglio a sistema, in rete, qualcosa che nel DNA della nostra scuola c'era già ma che così si contamina di buoni prassi e di grande scambio umano, relazionale, affettivo e anche di metodologia. L'avere la possibilità di un tutor in classe, trattare i temi di attualità, lavorare sulla relazione possa creare un motore diverso, una spinta diversa nei nostri ragazzi, creare quelle condizioni per una motivazione verso lo studio, verso il senso delle cose che si fanno a scuola, per renderli anche capaci di mettere in atto tutte quelle competenze di relazione che sono fondamentali per la vita.